Una scelta antistorica e pericolosa, così la rete di cittadini ed associazioni ambientaliste bollano il progetto di installare nel porto di Ortona un serbatoio da 25.000 metri cubi per lo stoccaggio del GPL. Troppi i rischi per l'incolumità dei cittadini, troppo pesante l'impatto sulla viabilità ortonese, troppo alto il rischio di uccidere il settore turistico della zona già in difficoltà. Poi c'è il capitolo dell'istituzione del parco della costa teatina, provvedimento fermo ancora a Roma. Secondo gli ambientalisti lo stoccaggio del GPL andrebbe contro la vocazione naturalistica di Ortona e della costa dei Trabocchi. C'è un mercato tendenzialmente mondiale che va in tutta altra direzione, ormai si parla di efficientamento energetico, di fonti rinnovabili e di mobilità sull'elettrico. Solo il mercato italiano è un'anomalia che comunque non reggerà nel lungo periodo e contro il territorio perché su quel territorio sarà a breve istituito il parco nazionale della costa teatina che inspiegabilmente è ferma presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e continuiamo ad avallare delle realtà che sono diciamo economia di scale spot per delle aziende che continuano a puntare su mercati antistorici. Domani alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Ortona si tornerà a parlare del progetto. Le associazioni chiedono al sindaco e alla politica di ascoltare i cittadini e di fare una scelta forte per la salvaguardia del territorio per l'implementazione della green economy e del turismo verde. Molti introiti li stiamo perdendo, ogni anno abbiamo tantissimi problemi per far venire gente a vedere i nostri bellissimi posti, adesso questo progetto qui ci dà l'ultimo colpo sulla testa, facciamo l'esempio del Trentino che solo in un anno fa un introito di 85 milioni di euro per il bike, ecco noi che abbiamo un territorio che è proprio vocato a tante forme di turismo non lo sfruttiamo al massimo.